Una sirena a Dubai Di solito gli uomini che sentono la mia voce si innamorano follemente di me e il loro cuore esplode La piccola Antonella è come sappiamo a Dubai Un po' come turista e un po' come giovane imprenditrice e modella per la sua linea The Queen Scacco matto Infatti in tanti scatti l'abbiamo vista in compagnia del giovane imprenditore Yuc il bel ragazzo biondo che ha gli uffici a Dubai Antonella è finalmente sorridente e si mostra contenta Ha gli scherzi degli amici che le hanno fatto una torta anche se non era il suo compleanno ed è felice Pensate, oggi la ragazza ha visitato a Dubai il Miracle Garden un immenso giardino con opere floreali grandissime e pensate, anche un tunnel a forma di cuore La ragazza si diverte tantissimo e ha provato l'entusiasmo per un tatuaggio all'ennè davvero speciale si è tatuata tutta la mano La bellissima Antonella ha fatto vedere tutta la sua gioia nelle numerose foto che ha postato per i suoi fan che sono contenti per lei e pensate, ha avuto stamattina una sorpresa veramente meravigliosa un enorme bouquet di fiori Chi è stato a mandarlo ad Antonella? Un altro spasimante folgogato dalla sua bellezza Un altro spasimante Un altro spasimante